Mentre prosegue con grande successo Musica nel Parco, Maria Gabriella Castiglione, domenica si esibirà a Silvi in un recital per pianoforte, una iniziativa molto sentita, molto importante. Sì, molto importante ma sono veramente molto contenta di venire ad esibirmi a Silvi Marina, quindi a due passi qui da Pescara perché è stato molto richiesto questo concerto in quanto sto vedendo che nei cartelloni estivi oltre alle giornate di intrattenimento oppure di festa, quindi le sagre, i fuochi d'artificio, i cantanti di musica leggera che comunque è giusto che ci sia, mettono e iniziano a inserire anche concerti di riflessione, quindi concerti di spessore culturale. A Silvi ascolterete un percorso molto originale che parte da Bach, io parto sempre da Bach perché è stato il più fondatore della musica, percorrendo un po' tutta la storia della musica, quindi da Bach a Chopin che è praticamente il re della musica per pianoforte, Rachmaninov il più grande autore della musica per pianoforte che noi sappiamo, fino a Astor Piazzolla, con i tanghi di Astor Piazzolla, poi passiamo per le colonne sonore da film premiati con gli Oscar di Riki Sakamoto e per passare poi alla fine con alcuni bis, ma non voglio dire tutto altrimenti non c'è la sorpresa. L'ingresso è gratuito, domenica 28 alle 21.15 alla Chiesa dell'Assunta, a Silvi Marina facilmente ritrovabile, lì all'interno c'è un auditorium che mi è stato concesso e quindi ringrazio ovviamente il comune di Silvi perché è stato ben disposto a organizzare questo evento che poi alla fine l'abbiamo fatto con poco perché spesso si pensa che la musica classica c'è sempre una barriera, no? Invece alla fine c'è molta più complicità e facilità nell'organizzazione che magari un grande evento in cui bisogna chiamare i vigili del fuoco e quant'altro, quindi invito veramente tutti quanti.